La CUP di Caltanissetta Emanuela Carrabotta ha condannato due operatori di una casa di riposo di Serra di Falco accusati a vario titolo di violenza sessuale e maltrattamenti sugli ospiti delle strutture. Undici anni e due mesi la pena inflitta a Vincenzo Biundo, 54 anni, di Gela. Quattro anni e otto mesi per la Serra di Falchese di 52 anni, Rosa Anna Milazzo. Il PM aveva chiesto la condanna a quindici anni per Biundo e a sette anni per Milazzo. Si tratta dei due imputati che hanno scelto il rito abbreviato, mentre altri avevano optato per l'ordinario e un altro indagato aveva scelto di patteggiare la pena. La vicenda era emersa nel luglio del 2021, con il blitz dei carabinieri del NAS ribattezzato Bad Caregiver, cattivo badante in inglese, e che aveva al centro quanto accadeva all'interno delle comunità alloggio Lio e Iacono, entrambe gestite dalla Coppa Azzurra, con sede in un unico plesso a Serra di Falco. In un caso, Biundo, l'unico accusato di violenza sessuale, avrebbe abusato di una ospite della struttura e, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, gli anziani sarebbero stati picchiati con bastoni e sedie, nutriti con pane e raffermo ammorbidito con latte e acqua e, inoltre, le terapie farmacologiche sarebbero state somministrate da personale che non aveva le qualifiche per svolgere tale compito. Alcuni degli ospiti e i loro familiari si sono costituiti parte civile con gli avvocati Flavio Sinatra e Ivan Angelo Bellanti, i quali, oltre alla condanna, hanno chiesto e ottenuto il risarcimento danni e una provvisionale da 3.000 euro per ciascuna parte civile. L'avvocato difensore Carmelo Tuccio aveva chiesto l'assoluzione degli imputati. Se ne riparlerà in appello.